UNICON ZOMBIE APOCALYPSE Cazzo è? Cazzo sto? No qua 14.000 Ma in chi? Ma non c'è un camorriso il logo? Ah, comunque, frate Karos Sotto c'è scritto Messaggio, non esiste Location, eccetera Dovrebbe un po' Io non sono bravo in inglese C'è qualche traduzione forse da fare Però funziona Quindi ho fottuto la macchina Se no mi faccio guardare in faccia Ti ammazzo prima e poi mi fottuto la macchina Ah, stronzo di merda Affanculo, va Fottiti stronzo Oh, vieni in ospedale, frate Questo è 4x4 Questo può anche saltare regolarmente, ragazzi Ascolta pure un po' Allora su whatsapp Comunque ragazzi troverete tutti i video di questa live Sul canale russo, ragazzi Dobbiamo ancora stabilire i giorni Su youtube, ragazzi Dobbiamo stabilire ancora i giorni di uscita Usciranno ogni giorno Un giorno a settimana, se non erro O troveremo il giorno per far uscire anche la live Cioè In varie parti, giustamente Sottivisa di 15 minuti l'una O troveremo il tempo pure per fare questo, ragazzi Così ci sponsorizziamo i server anche su youtube A parte che dal bando già so che lavori bene Quindi non ti faccio niente E' bello quando c'è la mappa memoria Oh oh Eh, salve, salve Lei, tutto bene Ma il medico qua dove sta Lì, babà Non lo so Non lo so, lo so aspettare Perché dovevo fare Praticamente dovevo fare Ah, vabbè, dai Vabbè, dai Direttore, shh Eh, eh, eh Eh, eh Stavo facendo un po' di sport Con la macchina nuova Ah, è lei Eh, sì, sì, sì Però, però, vabbè Tu fai fin da che non mi hai mai visto vestito così Eh, una prova Tranquillo Eh, capito Questa è una tuta sportiva Eh Mi scalfacino Piacere, franco rega Per gli amici franco senza gelato Eh, no, franco e pasta Franco senza gelato Vabbè, è per dire, è per dire Eh, io ho visto il tuo curriculum tramite mail Sei abbastanza già impegnato Cioè, già sai fare tutto Si potrebbe dire Sì, sì, praticamente Sì, sì Ah, ok Studiato in medicina Sai quindi come si fanno le dosi dei farmaci Cosa? Eh, niente Lei c'è stare Ho detto Hai studiato tutto Quindi Già sai La medicina come funziona Le bende come vanno Ok Allora sai Ti assumo Vai Ma cazzo si fa assumere? Entriamo un attimo dentro Così mi spiega Mi fa vedere anche un po' No, no, no Io devo andare C'è mia moglie che mi aspetta Eeeh Ah, perfetto Allora Mi vado Ah, sto scherzando Ma i vestiti non ci sono comunque No, lo Vai tranquillo Capisci a me Lo so, lo so Lo so Mi vado a vestire Intendo I medici Già sai dove stanno? No No, no, no E allora aspetta Ma ti accompagno Solo a guardare dove sono queste cose importanti Comunque mi sa Mi sa che tu Fine settimana Promozione Porco Dio L'ho chiusa Ok Promozione direttamente dal direttore Pure te Ah, perfetto Porco Dio Mi sono bloccato Cada volta Oh, Alibaba Ma nel c'è porto Te lo chiesto Aia Allora Do cazzo vago? Qua Qua Vedi questi diretti qua Ok, ok Eccolo qua Medikit Ben Sì, sì C'è tutto C'è pure Coca No, no Coca-Cola No, no Ok Preso tutto Perfetto Pure io ho preso tutto Ho preso anche io adesso Scusi Va bene Tranquillo Mirko E Vabbè L'ambulanza Ti devi arrangiare Sennò ti do quella La medica La macchina No, no, no Vado con l'ambulanza Tranquillamente Oh, vestiti Fateli come cazzo Tranquillo Tranquillamente Certamente Certamente Vabbè Bruters Benvenuto in ospedale Allora Grazie Direttore Mirko Buonasera Arrivederci Arrivederla Arrivederla E niente E niente E niente E ciupa 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 Ah ma non cado Che palle Salve 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 Certo qualcuno No Ben 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 Eh Ben Dentro c'è L'altro Direttore Ah no Aspetta Pia Tama L'ambulanza E niente E niente E niente Senti qua Io non so Quanto costano Adesso le bende Però se aspetti Un quarto Sei felice Ah vuoi le bende Proprio E non so Il vestito delle bende Non sappiamo ancora Quanto è Salve Mi dica No niente Volevo delle bende Venga con me Venga con me Qui all'interno Va bene Arrivederci Arrivederla Devo mettere Mascher Porco dio E vetti giù Le mani E vetti giù E vetti giù Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, Anto, dove sei? Ripeti, non ho capito, dove sei? Oh, dove sei? Non ti sento. Sono in ospedale. Ok, senti qua. Fatti trovare fra due minuti, massimo cinque minuti al 2.04 centrale. Chiaro sotterraneo. Ciao. Oh, ma tu stavi con il nonno? Ah, non c'è più? Oh, posso capire che cazzo fai in città? Però non è niente. Vabbè, ok. Allora non posso parlare con te. E vedici. E vedici. Allora non posso parlare con te. 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 E vedici. Ciao Ciao